E' molto probabile che negli ultimi mesi vi siate imbattuti almeno una volta in questa foto. La foto segnaletica di Ezra Miller, attore conosciuto fra le altre cose per il ruolo di Creedence Berman nella saga di Animali Fantastici e Flash nell'universo DC. E' da un po' di mesi infatti che Miller è stato al centro di una serie di eventi che l'hanno visto arrestato più di una volta in un crescendo vero e proprio di crimini. Disturbo della quiete pubblica, minacce di morte, aggressioni varie e un ultimo disturbante tassello che di recente si è aggiunto alla spirale di follia nella quale Miller sembra essere rimasto inglobato. L'adescamento di minori. Ultimo tassello che, a quanto pare, si va a ricollegare agli eventi delle settimane passate e che addirittura sembra forse dare una logica alle azioni senza senso che si sono susseguite in questi ultimi tre mesi. Vi metto in guardia, questa è una storia che diventa sempre più assurda più si scende a fondo nella tana del bianconiglio. Quindi, a questo punto, la domanda rimane una e una soltanto. Cosa diamine sta succedendo con Ezra Miller? Andiamo con ordine. Questa storia comincia con un tweet. E' il 28 marzo 2022 e l'account Twitter ufficiale del Dipartimento di Polizia delle Hawaii, negli Stati Uniti, pubblica la foto di un uomo dall'aspetto familiare. Visitatore del Vermont, arrestato per interruzione dell'ordine pubblico e molesti a Dilo. Forse in un bislacco tentativo di proteggerne la privacy, la polizia sceglie di non divulgare il nome di Ezra Miller, ma nell'affiancare la foto, ovviamente, la rete lo riconosce subito. E l'intera storia emerge a galla. Ah, piccola postilla, lo so che i pronomi di Ezra Miller sono Deidam, essendo non binary, però rispettarli nel parlato italiano è molto difficile e scomodo, quindi per il senso di fruizione di questo video gli darò del lui, perdonatemi. La sera prima, attorno alle 23.30, Ezra Miller si trovava in un bar, quando all'improvviso ha cominciato ad urlare oscenità agli altri clienti del posto e ha afferrato il microfono a una donna di 23 anni che stava cantando al karaoke. Dopo averla insultata e minacciata, si è scagliato contro un uomo di 32 anni che stava giocando a freccette. Come scopriremo poi più avanti, Miller ha anche sputato in faccia questo uomo, continuando ad insultarlo e cercando di provocarlo. A questo punto, il proprietario del bar ha più e più volte chiesto a Miller di calmarsi, ma senza successo, al che è stato costretto a chiamare l'intervento della polizia. La polizia lo arrestò e di questo primo evento se ne parlò parecchio, ma diciamo che le persone non ci diedero eccessivamente peso, perché sembrava soltanto il comportamento scorretto di una persona che aveva un po' alzato il gomito e aveva cominciato a fare il gradasso insultando gli altri. Miller infatti venne rilasciato quasi subito dalla polizia dietro al pagamento di una cauzione di 500 dollari. Ma questo, ovviamente, sarebbe stato solo l'inizio. Il 29 marzo, il giorno dopo il suo primo arresto, viene emanato un ordine restrittivo nei suoi confronti. Potreste pensare che questa richiesta sia arrivata da una delle due persone aggredite la sera precedente al bar, ma non è così. L'ordine restrittivo arriva da una coppia che alleggia nello stesso ostello di Miller. Secondo i documenti del tribunale, la coppia afferma che Miller, dopo essere stato rilasciato dal suo primo arresto, ha fatto irruzione nella loro camera da letto, minacciando di ucciderli. Urlando testualmente, Brucerò te e la tua moglie Troia. Ha poi rubato loro il portafoglio, portandosi via una patente di guida, un passaporto, delle carte di credito e una tessera della provvidenza sociale. Che credo che sia l'equivalente del nostro codice fiscale. La coppia ha quindi denunciato Miller, chiedendo un ordine restrittivo nei suoi confronti, e dicendo che è famoso e ricco, e questo rende molto più facile l'accesso alle armi, oltre a inviare collaboratori per molestare il firmatario. Insomma, la coppia era giustamente spaventata da quello che Miller avrebbe potuto fare loro. Questo secondo evento mise Miller maggiormente sotto la luce dei riflettori, perché quello che in precedenza poteva passare come un incidente isolato, si stava trasformando in qualcosa di ben più grave. Si scopre infatti che questa non è né la prima né la seconda volta che Miller finisce in guai con la polizia durante il suo soggiornale a Hawaii. L'assistente capo della polizia, Kenneth Kiyosho, ha infatti detto che Miller è stato oggetto di almeno 10 telefonate alla polizia, che vanno dal 7 al 29 marzo. 10 telefonate in poco meno di 3 settimane. La maggior parte di questi eventi erano minori, come disse l'assistente capo, cose come filmare persone in una stazione di servizio senza il loro permesso, rifiutare di andarsene da un bar e avere numerosi litigi con varie persone. Tuttavia, pochi giorni dopo, la coppia in questione decise di revocare l'ordine di restrizione e lasciar perdere tutta la questione. Il loro avvocato non ha voluto spiegare il perché di questo gesto improvviso, ma non è difficile immaginarne le ragioni. È molto probabile che gli avvocati di Miller abbiano pagato profumatamente la coppia per insabbiare il tutto, come spesso succede in queste situazioni. Questo secondo incidente, tuttavia, suscitò una marea di domande in me. Perché Miller stava facendo tutto ciò? Prima di tutto, perché Miller stava alloggiando in un ostello, una delle forme di villeggiatura più economiche e spesso scomode, siccome devi condividere la stanza con perfetti sconosciuti, contando tutti i soldi che aveva, essendo un attore multimilionario di Hollywood. Ma soprattutto, perché rubare quei documenti? A cosa gli servivano? Era soltanto una presa di potere? Un gesto dettato dalla frenesia del momento per inferire ulteriormente sulla coppia? O sotto c'era qualcosa di ben più grosso? Possibile che quei documenti a Ezra Miller servissero in qualche modo? E come mai ha scelto di attaccare proprio questa coppia? Nella denuncia viene riportato che Miller era entrato nella loro camera da letto, un ambiente privato, quindi non uno spazio condiviso come poteva essere il bar, dove magari era molto più semplice che nascesse un qualche tipo di scontro fra le due parti. Purtroppo non c'è dato di sapere quale tipo di rapporto ci fosse tra i tre, se si conoscessero già da prima o se si trattava di completi sconosciuti. Per un po' di giorni la situazione sembrò tornare tranquilla. Ma la calma alle Hawaii non durò a lungo. Il 19 aprile, appena qualche settimana dopo il suo secondo incidente, Miller viene arrestato di nuovo. Questa volta con l'accusa di assalto di secondo grado, il che significa che aveva fisicamente attaccato e ferito qualcuno. Stando al resoconto della polizia, verso l'una di notte, Miller si trovava a casa di una donna. Ancora una volta non è chiaro quale fosse il rapporto tra i due, se erano conoscenti o perfetti sconosciuti, ma sta di fatto che, a un certo punto, la donna in questione ha chiesto a Miller di andarsene dalla sua abitazione. E questa cosa sembra averlo infastidito parecchio, al punto da raccogliere una sedia e lanciarla contro la donna, colpendola in testa e lasciandole un taglio profondo parecchi centimetri sulla fronte. I have Ezra Miller at my house right now. We have been offering our home to him and he came to her home and he's threatening us right now. He hit me in the head with a chair and I'm leaving. So do you need medical attention? I, no, I don't need medical attention. I need the police here now. So how old is he? I don't know. He's in his 30s. He's in his 30s. I'm 26. Okay. If you see them on the road, they're leaving, they're trying to leave our premises right now. They're driving away in a gray car, a gray truck. Okay, that's two different things. Is it a truck or is it a car? It's a gray truck. And they are mostly right now. They are located in Hilo as well. Ezra Miller is the person that is the one that was in our home. And he threw this chair at me. He assaulted me. He's in our home. And we've offered that. We have been here very nice to him. And he did this to us tonight. Ho cercato di fare del mio meglio per tradurre la chiamata che la donna aveva fatto alla polizia. Ma è molto difficile da capire, soprattutto contando quanto lei è agitata. Ad un certo punto sembra parlare di erba. Mi è sembrato di sentire la parola weed. Ma non è chiaro se Ezra Miller sia venuto a casa loro per offrire dell'erba o se l'abbia rubata e sia scappato con essa. Sta di fatto che la preoccupazione primaria della donna è quella di vedere Ezra Miller arrestato, al punto che neanche si preoccupa della sua condizione fisica. La polizia per fortuna riesce a trovare Miller pochi minuti dopo, mentre vaga per le strade e lo porta ancora una volta in stazione. Ed è a questo punto che ho cominciato a notare una cosa. Ovvero che Miller sembra avere una certa tendenza nell'essere violento nei confronti delle donne. Ed è qui che mi è tornato in mente un video che era emerso un paio di anni fa dove Miller strozzava una fan sbattendola al tappeto. Come potete vedere nel video, all'inizio la ragazza stava ridendo perché probabilmente pensava che Miller stesse scherzando. Ma quando qualcuno di sottofondo grida wow bro 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 come dire frate cosa stai facendo fermati non è un buon segno. L'assalto della fan, insulti alla donna del karaoke, insulti e le minacce di morte alla donna dell'ostello e ora questo attacco, questo lanciare sedi in testa a questa donna comincia a notare un certo schema e altri video cominciano piano piano ad emergere. TMZ pubblica un video di un altro diverbio tra Miller e la polizia avvenuto pochi giorni prima del suo primo arresto. Possiamo vedere Miller in compagnia di una ragazza che cerca di entrare in un bar dove evidentemente non è il benvenuto. Un'altra ragazza, forse la titolare, continua a dirgli che non può entrare anche spingendolo leggermente indietro quando questo prova ad avvicinarsi. La ragazza poi torna dentro al bar al che Miller cerca di seguirla ma lei lo spinge via un'altra volta, questa volta con più forza. Viene chiamata dunque la polizia e probabilmente questo è il caso a cui faceva riferimento l'assistente capo della polizia quando parlava delle dieci chiamate ricevute nelle ultime settimane. Vi invito tuttavia a notare un dettaglio che all'epoca mi era sembrato insignificante ma che alla luce delle nuove dichiarazioni delle nuove notizie che riguardano Ezra Miller assume secondo me una certa importanza. La ragazza che lo accompagnava si è dileguata all'arrivo della polizia. E non credo che questo sia un caso ma facciamo un passo indietro. L'11 maggio il sito TMZ pubblicò il video del primo arresto di Miller quello avvenuto al bar registrato grazie alle bodycam della polizia. E questo video è strano a dir poco. All'inizio sentiamo parlare l'uomo che è stato aggredito da Miller il suo volto è censurato per questioni di privacy. No, 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 no. I got assaulted and I started filming. Ok. Let's show you the video. Let's talk stories outside. Let's talk stories outside. I got assaulted in this bar twice in a row. Come potete vedere Miller è estremamente aggressivo nei confronti della polizia la quale invece è molto calma e sta cercando di collaborare rispondendo alle richieste di Miller quando questi chiede loro di identificarsi. E dice una cosa stranissima ovvero che si riprende quando viene aggredito per le NFT e la criptoarte. In che senso? Ricordate quando prima parlavo di andare a fondo nella tana del bianconiglio? Ebbene è quello che è successo quando ho scelto di investigare il mondo della criptoarte di Ezra Miller visitando il suo sito che non saprei come altro definire se non come un trip di acidi. Il suo sito è pieno di varie forme di criptoarte come le chiama lui. Sembra che gli piace moltissimo fare foto e video reali che poi distorce con degli effetti visivi. E credo che era questo che si riferiva quando parlava di registrare le aggressioni per creare NFT. Molto probabilmente registra queste aggressioni e poi li divide in piccoli frammenti da 5-10 secondi per poi distorcerle con un effetto grafico e venderle come NFT uniche. Non sono riuscito a trovare delle clip di aggressioni usate nello specifico anche perché penso che dovresti comprarle non so, non ho un'idea di come funzionano bene le NFT ma penso di aver comunque trovato la prova effettiva che lui usi delle situazioni di reale pericolo per le sue NFT. Il suo sito faceva riferimento ad un video musicale Julie Song del gruppo Suicide Ear un videoclip che lui stesso ha girato. In una parte del video si può vedere un filmato POV di una persona che si trova in una casa in fiamme davanti alla quale si trovano i pompieri intenti a spegnerla. Certo, potrebbe sempre essere una messa in scena per il video ma contando che quest'ultima ha poco più di 15.000 visualizzazioni non credo che si tratti di uno studio ad altissimo budget. Ma perché vi sto parlando di tutto ciò? Ritorniamo un attimo al video dell'arresto. CENTRAL 131 CENTRAL 131 CENTRAL 131 I claim my 4th Amendment rights to not be searched and seized on no probable cause that you will not be able to offer in a court of law. I claim my 4th Amendment rights to not be unlawful. Hey, you just touched my penis. Please don't do that. I'm non-transgender, non-binary. I don't want to be searched by a man. I'm transgender, non-binary, and I don't want to be searched by a man. I claim my 4th Amendment rights. These are Nerf guns, just in case you worry that they're bullets. Those are Nerf bullets. They're a fake, and they're a toy. This is my belt buckle and my Nerf bullets. I appreciate that. Please don't take them from me. The flash ring means a lot to me. Di questo video, due cose mi hanno colpito particolarmente. La prima è che Miller stesse mentendo continuamente, sia per le cose successe dentro locale, ma sia per gli eventi appena accaduti davanti agli occhi della polizia. Sostiene infatti che lui è in realtà la vittima, che era stato l'uomo in questione ad aggredirlo, e non viceversa, e che costui in realtà è un nazista dichiarato. Ma la cosa che mi ha colpito di più è stato il modo in cui Miller recitava alla perfezione tutti i suoi diritti e i vari codici della Costituzione, proprio come un copione preparato, come se fosse già pronto all'eventualità di un arresto. Questi elementi mi hanno portato a chiedermi se tutto questo casino non fosse stato fatto apposta ad Ezra Miller per creare materiale per le sue NFT. Non mi riferisco tanto all'arresto della polizia, non penso che puntasse addirittura a far intervenire le forze dell'ordine, quanto più al suo provocare continuamente le persone all'interno del bar. Uno non va semplicemente da uno che si sta facendo i cazzi suoi e gli sputa in faccia. È un gesto molto forte, vuol dire che stai cercando una provocazione, che stai cercando di suscitare una reazione nell'altra persona. L'uomo infatti all'inizio aveva detto che pensava che Miller lo avesse scambiato per qualcun altro, però da quello che sappiamo Miller stava già causando casino all'interno del bar da prima, stava già insultando le altre persone, si era già scagliato contro la ragazza del karaoke e poi soltanto è andato su questo uomo. Quindi non era una cosa premeditata, è stata una cosa che gli serviva una persona a casa in quel momento e sto povero uomo ci è andato di mezzo. Il fatto che Miller stesse già riprendendo nel momento in cui la polizia era arrivata fa pensare proprio a questo, che lui provochi le persone nella speranza che lo attacchino, che causino qualche tipo di reazione e che poi lui prenda questi video e li venda come NFT. Qui è proprio il caso di dirlo, viviamo in una società. E di nuovo, il fatto che lui fosse già così pronto a recitare alla perfezione tutti i suoi diritti, tutte le cose che la polizia poteva o non poteva fare nei suoi confronti, mi dà l'idea di uno che aveva già tenuto di conto la possibilità di essere arrestato. Ed è molto disturbante il fatto che tra gli oggetti a lui sequestrati ci fosse anche una pistola giocattolo. Perché questa cosa aveva intenzione di minacciare per finta qualcuno, per suscitare di nuovo una reazione per le sue NFT? Chi lo sa? È molto difficile ormai capire cosa stia passando per la testa di Ezra Miller. Prima di addentrarci nell'ultimo e anche nel più disturbante capitolo di questa strana storia, voglio mettere una cosa in chiaro. Fino a questo punto ero dell'idea che Ezra Miller stesse passando un brutto periodo e avesse bisogno dell'aiuto di uno psicologo. E continuo ancora oggi a pensare, per certi versi, che molti di questi eventi sarebbero potuti essere evitati se Miller fosse stato accompagnato per tempo dalla giusta figura professionale. Anche se più continuavano ad arrivare le notizie, più ero dell'idea che questa persona andasse realmente fermata prima che potesse diventare una minaccia. Da cui è emerso anche uno dei meme più famosi della mia chat di Twitch, ovvero quella di Ezra come lanciatore di sedie non appena dici qualcosa che non gli va genio. Ma adesso non possiamo più scherzare, perché quello che è emerso nelle ultime 24 ore su Ezra Miller è la parte più disturbante di tutta questa storia. Ezra Miller è stato accusato di aver preso il controllo di una ragazza di 18 anni e di averla riempita di alcol, LSD, marijuana, di averla ferita e di averla manipolata psicologicamente. Una serie di condanne mosse dai genitori della ragazza, a cui se ne aggiunge un'ultima, gravissima, quello di addescamento di minori. Lei è Toccata Iron Eyes, una ragazza di origini nativo-americane, membro di una tribù di Standing Rock. Toccata ha incontrato Miller per la prima volta quando aveva 12 anni, quando lui, all'epoca 23enne, era venuto in visita alla riserva dove risiedeva in North Dakota. Probabilmente era nel periodo in cui Miller stava girando Justice League nel 2016, dato che uno dei set del film era lì vicino, nell'Illinois. Da quanto raccontano i genitori di Toccata, una strana ed improbabile amicizia sarebbe nata tra i due quel giorno. Amicizia continuata negli anni a venire, fino ad oggi. Due anni dopo, quando Toccata aveva 14 anni, Miller la fece addirittura venire in aereo fino a Londra, per portarla a visitare i set di Animali Fantastici. E i genitori l'accompagnarono, siccome lei era una grande fan sia del film, che di Ezra Miller come star. Questo rapporto continuò negli anni a venire, andando soltanto a peggiorare per quel che riguardava l'influenza che Miller aveva su Toccata. Toccata studiava in una scuola privata del Massachusetts e, stando ai genitori, Miller ha avuto una tale influenza su di lei costruita in questi anni a spingerla, lo scorso dicembre, ad abbandonare gli studi, ad abbandonare la scuola e a fuggire insieme a lui. Chase Iron Eyes ha infatti chiesto un ordine restrittivo nei confronti dell'attore per la figlia e Miller è stato chiamato in tribunale il prossimo mese. Nella denuncia, Chase dice che l'attore presenta una tendenza a corrompere i minori. Dicono che Miller ha fatto uso di un tipo di manipolazione psicologica tipica dei membri di un culto e che ha usato la violenza, l'intimidazione, le minacce, la paura, la paranoia, la disillusione e le sostanze stupefacenti per prendere il controllo dell'adolescente. Ezra aveva anche spinto Toccata ad abbandonare il suo nome e a farsi chiamare Gibson, un nome che lei utilizzava soltanto con i suoi amici e i familiari più intimi. Dopo che Toccata aveva abbandonato la scuola, i suoi genitori si sono recati a gennaio alla casa di Ezra Miller, nel Vermont, per recuperare la figlia. Hanno dichiarato di aver trovato numerose ferite lividi sul corpo della figlia e che questa non fosse più in possessa delle chiavi della macchina, della sua patente e delle sue carte di credito. Toccata è ritornata a casa con i genitori per poi scappare nuovamente a New York per riunirsi ad Ezra Miller e da allora stanno viaggiando insieme. Ricordate quando, nel video in cui si vedeva Ezra Miller cacciato da un bar, vi ho richiamato l'attenzione su una ragazza che lo accompagnava? Ebbene, quella ragazza era proprio Toccata e sembra che l'abbia accompagnato nel corso della sua permanenza alle Hawaii. Possiamo infatti vedere una ragazza che le assomiglia anche in un altro video dove Ezra ballava in un club, sempre alle Hawaii. In seguito alla divulgazione di questa notizia, Toccata ha rilasciato una dichiarazione sul suo account Instagram dove dice di essere in pieno controllo delle sue azioni e di non aver bisogno dell'intervento della polizia o altro. Dato che, ovviamente, i genitori hanno contattato le forze dell'ordine cercando di ritrovare la figlia. Voglio leggervi questa dichiarazione per quanto sia un po' lunghina perché ci sono alcune frasi che mi hanno colpito tantissimo e che mi portano a credere che a tutti gli effetti Ezra Miller stia facendo un sistematico lavaggio del cervello a questa ragazza di 18 anni e che la stia controllando e manipolando per i suoi fini, qualunque essi siano. Vorrei fare una dichiarazione per mettere alla luce la tragedia che è la narrativa del pubblico generalista e le ipotesi che sono state fatte su di me da parte della mia famiglia e dei miei amici a riguardo della mia stabilità mentale e quant'altro. Ho lasciato Bard cinque mesi fa. Il mio amico e compagno William è venuto a mancare poco dopo. Ciò ha avuto un incredibile impatto sulla mia mente e avevo bisogno di tempo per processare il dolore. Il mio compagno Ezra Miller, per l'intera durata del periodo sopra citato, mi ha fornito soltanto supporto amorevole e una preziosa protezione durante questo periodo di lutto. Non sono in alcun modo, né sono mai stata in qualsiasi circostanza durante la mia breve vita adulta, bisognosa di una tutela. Mio padre e le sue accuse non hanno alcun peso e sono francamente transfobiche e si basano sulla nozione che io sia in qualche modo incapace di pensare coerentemente o di avere opinioni opposte a quella della mia famiglia che si preoccupa per il mio benessere. Sono ora cosciente della severità della manipolazione emotiva e psicologica che ho dovuto subire mentre ero a casa dei miei genitori. Sono un adulto e mi merito di sentire l'autorità sul mio stesso corpo. Sono stanca di domandarmi ogni giorno se i poliziotti arriveranno meno a sezionarmi. Ho scelto un terapista e sono entusiasta di poter avviare delle conversazioni con un esperto della sanità mentale sulla mia ansia e la mia probabile depressione. Non è affar di nessuno, le scelte sono le mie e per quel che riguarda l'intervento della polizia nel mio caso non è necessaria ed è uno spreco di tempo e risorse. Questa dimostrazione di evidente tradimento e tossicità da parte dei miei genitori e degli altri che hanno scelto di punirmi è stata disperatamente imbarazzante e mi ha cambiato la vita in maniera traumatica. Alcune relazioni nella mia vita sono state brutalmente influenzate alcune in maniera dannosa. Questo comportamento è inaccettabile e bisogna essere portato all'attenzione di tutti. Tenete a mente che tutto quello che dirò da ora in avanti è frutto di semplice speculazione ma credo che sia abbastanza chiaro che molte delle cose dette da Toccata in questo post indichino una manipolazione psicologica a monte ma prima di poter trattare queste cose sono dell'idea che bisognerebbe rispondere a una domanda molto importante per quanto semplice chi è esattamente Toccata Iron Eyes? Nata nel 2004 è figlia di Chase Iron Eyes attivista, avvocato e politico e della dottoressa Sarah Jumping Eagle pediatra e attivista ed è stata a sua volta un'attivista fin da giovanissima è diventata la giovane leader di un gruppo chiamato Respecto Water una campagna contro il percorso proposto per la Dakota Access Pipeline una tubatura che avrebbe distrutto gran parte di una riserva naturale Toccata è diventata virale con una campagna video all'età di 12 anni durante il 2016 e credo che sia stata questa notorietà a farla notare a Miller la sua carriera come attivista in realtà è stata molto attiva nel 2019 ha anche incontrato Greta Thunberg e l'ha portata a visitare la sua terra conducendo insieme numerosi cortei tramite il Nord e il Sud Dakota data la sua passione per la musica e il canto si è iscritta al Bard College at Simon's Rock nel 2020 Toccata è anche apparsa su Disney Plus in un episodio di Marvel's Hero Project e qualche mese dopo ha anche ricevuto dei premi per il suo lavoro d'attivista questo per darvi un quadro un po' più completo su chi è Toccata e farvi capire che era una ragazza molto legata all'attivismo alle sue passioni sia quelle che riguardavano la protezione della sua terra natia sia per i propri hobby come il canto e la musica ragione per cui un tale cambiamento il suo abbandonare ogni cosa la scuola, la sua famiglia, la sua carriera d'attivista appare quanto più strana ora, non metto in dubbio che i genitori possano essere molto duri e restrittivi con i propri figli e anche cercare in numerose occasioni di controllare la loro vita soprattutto quando si tratta di comunità così ristrette come può essere quella dei nativi americani ma nonostante questo l'aggressività di Toccata nei confronti dei suoi genitori appare molto forte il fatto che lei dica di essere ora soltanto adesso consapevole della manipolazione psicologica dei suoi genitori per me alza un campanello d'allarme dato che sembra proprio una tipica tattica dei manipolatori ovvero allontanare la propria vittima da amici e familiari portandola a nutrire un risentimento verso di essi e a vederli come dei nemici così che l'abusatore possa essere l'unico scoglio a cui la vittima possa appoggiarsi ma soprattutto mi ha colpito molto la frase dove Toccata dice di essere stanca di preoccuparsi ogni giorno che la polizia possa arrivare a sezionarla questa è un'idea molto particolare lei è convinta che la polizia le stia praticamente dando la caccia che voglia farla a pezzettini e soprattutto nel suo comunicato fa spesso riferimento anche alla sfera della transessualità dando del transfobico al padre ebbene stando alla dichiarazione del padre Ezra Miller avrebbe deciso che Toccata è un transgender non-binary mentre Toccata in precedenza si era dichiarato soltanto come non-binary e queer questo sembrerebbe indicare che Miller abbia praticamente imposto a Toccata di definirsi transgender che l'abbia convinta di questo contro la propria volontà in effetti anche lo stesso Ezra Miller per anni si era dichiarato come non-binary ma da quel che ricordo non ha mai detto di essere trans in effetti anche lo stesso Ezra Miller per anni si era dichiarato come non-binary ma non mi sembra che avesse mai detto di essere anche transessuale eppure nel video dell'arresto che vi ho mostrato lui urlava di essere entrambe le cose ora il discorso sulla sessualità e sull'identità di genere è uno molto complesso e ammetto di non essere un esperto però da quel che so se tu sei non-binary vuol dire che non ti identifichi in nessuno dei due generi quindi ha senso dire che sei anche transessuale? non lo so, non sono sicuro se potete spiegarmi questa cosa nei commenti mi fareste un enorme favore sta di fatto comunque che a me non sembra che il messaggio di Toccata sia tutta farina del suo sacco o comunque sono dell'idea che lei sia stata largamente influenzata da Ezra e sono dell'idea che non è da escludere che alcuni dei crimini commessi da Miller in questo periodo siano collegabili in qualche modo a Toccata sono convinto al 100% che questa sia la ragione per cui Ezra alloggiava in un ostello e non in un hotel di lusso o comunque un luogo un po' più agiato perché voleva evitare i paparazzi perché voleva evitare di mettersi sotto i riflettori dato che Toccata era con lui e sapeva che i genitori la stavano cercando inoltre quando i genitori erano venuti a prenderla a casa di Ezra Miller a gennaio nel Vermont avevano notato che le aveva smarrito la patente e comincio a pensare che non sia poi così un caso che Miller abbia aggredito quella coppia e abbia rubato loro cose come la patente la tessera della provvidenza sociale le carte di credito il passaporto secondo me non è da escludere che la cosa servisse a fornire una nuova identità a Toccata se la donna in questione le assomigliava anche solo un po' con tutti quei documenti dalla sua avrebbe potuto tranquillamente spacciarsi per essa? inoltre nella chiamata al 911 arrivato dalla donna aggredita nella sua casa lei aveva detto che loro si stavano allontanando in macchina aveva parlato al plurale e io sono dell'idea che l'altra persona fosse proprio Toccata e mentre investigavo tutte queste cose ho notato un altro piccolo dettaglio secondo me da non sottovalutare sul profilo Instagram di Toccata al momento il profilo conta soltanto 6 post il più vecchio risalente a soli 4 giorni fa eppure l'accanto è molto più vecchio se andiamo nei post dove è stata taggata ce n'è uno che risale al 2015 in tutti i nuovi post lei sembra allegra e spensierata c'è un video dove lei guarda le paperelle con probabilmente Ezra che registra dato che si può sentire la sua risata lei che ride con Ezra è un'altra amica un video dello stesso momento dove loro si godono la musica e fumano dove lei sembra parecchio sotto gli effetti dell'erba questi ultimi due post sono stati postati in rapida successione lo stesso giorno e pochi minuti dopo è stata postata anche la sua dichiarazione e a me tutto puzza di una situazione creata ad hoc per far sembrare che lei sia allegra, tranquilla e spensierata e nascondere quello che sta realmente succedendo dietro alle quinte e continuo a pensare che dietro a tutto e anche alla sua gestione degli social ci sia lo zampino di Ezra Miller queste ovviamente sono tutte teorie può anche essere che in realtà come dice lei Toccata stia benissimo e che in realtà non ci sia alcun tipo di problema ciao ragazzi sto registrando questa parte extra perché nelle ultime ore mentre stavo montando praticamente il video è uscito un video sul profilo Instagram di Toccata pubblicato da lei stessa dove appunto lei parla di quello che è successo e risponde alle accuse che sono arrivate da molte persone come si può immaginare sul fatto che quello statement non fosse veritiero e che qualcuno, Ezra, la stesse costringendo a scrivere il tutto il video in questione non ve lo sto tradurre perché tanto in realtà ripete le stesse cose di prima però c'è da dire che è abbastanza particolare perché lei è molto diversa da come l'ho vista da come la potete vedere se cercate i video dei suoi interventi quando fa attivismo e tutto quanto dove quando parla è super attiva, super chiara e tutto quanto qui sembra che stia praticamente parlando a velocità 0.5 è molto rallentata, praticamente si impappina sulle parole e moltissime persone nei commenti hanno notato questa cosa e dicono che sia sotto effetto di droghe o comunque che non stia pensando in maniera normale ci sono molti amici o familiari che sono arrivati a scrivere nei commenti persone che hanno detto che conoscevano, che conoscono sia lei che i suoi genitori e l'hanno attaccata direttamente dicendo che quello che lei ha detto sui suoi genitori non è vero che anzi i suoi genitori sono sempre stati molto amorevoli, molto rispettosi della sua identità e di qualsiasi cosa e che si sentono molto feriti per l'aggressività con cui lei li ha attaccati e ovviamente la maggior parte delle persone sta tirando in ballo la sindrome di Stoccolma dicendo che lei ormai è completamente presa da questa relazione questo tipo di rapporto che ha con Ezra Miller che ormai ha fatto il lavaggio del cervello la cosa più strana di tutto ciò però è che lei all'interno di questo video dice che non ha più un cellulare suo e che ha fatto questa scelta di sua spontanea maledità che ha una sua scelta così, senza entrare nel dettaglio perché vuole farlo che è molto strano perché allora se lei non ha più un cellulare non usa più i cellulare social com'è che adesso negli ultimi giorni ha pubblicato tutti questi video e queste foto? non sembra che questa cosa sia logica mi sembra quasi più una sua giustificazione che viene data in questo video sul perché i suoi familiari e amici non riescono a raggiungerla e ancora una volta mi sembra una situazione in cui lei è praticamente tenuta in ostaggio senza che però se ne renda conto perché è chiaro che lei sta facendo tutte queste cose perché seriamente è convinta di queste cose e come hanno detto molti ci stiamo avvicinando o siamo forse già pienamente dentro una sindrome di Stoccolma ma il grooming come viene chiamato in inglese l'addescamento di minori funziona esattamente così Ezra Miller ha instaurato un rapporto con questa ragazza quando lei aveva 12 anni ed è stato presente nella sua vita è diventata una figura di riferimento e siccome già lei lo ammirava lo guardava lui come una figura di riferimento è stato estremamente facile per lui riuscire ad avere questo controllo sulla sua persona tutta questa storia presenta i sintomi da manuale di una relazione abusiva di una vittima e di un manipolatore e sono francamente scioccato della persona che è diventata Ezra Miller ripeto, io vi ho solo raccontato la storia quello che è successo quello che sappiamo dai video, dalle foto e soprattutto dai documenti ufficiali che sono arrivati ai giudici e ai tribunali ma dovete ammettere che ci sono troppi pezzi che si incastrano fin troppo bene in questa storia perché sia tutta una casualità Ezra Miller ha adescato questa ragazzina fin da quando aveva 12 anni e adesso le sta facendo un sistematico lavaggio del cervello cercando di allontanarlo dalla sua famiglia facendola mettere in dubbio su se stessa continuamente facendola abbandonare gli studi e la sua carriera portandola a cambiare la sua stessa identità prima con il cambio di nome e poi con quello dell'identità sessuale la sta allontanando sempre di più dalla sua vita precedente la sta isolando sempre di più e questo è una cosa che fanno i manipolatori e tenete conto di una cosa molto importante queste, tutte queste sono soltanto le cose che sappiamo perché ci sono i video e le denunce della polizia c'è tutto un altro mondo dietro al manipolatore Ezra Miller che probabilmente ignoriamo totalmente ragazzi so che questo è stato un video molto diverso dal solito ma questa è una storia che ho seguito attentamente da vicino negli ultimi tre mesi da quando è cominciato tutto quanto da marzo praticamente e che abbiamo commentato a lungo sia su Instagram sia su Twitch ci ho fatto intere live su questa cosa e ritenevo fosse arrivato il momento di parlarne e di mettere soprattutto insieme i pezzi in maniera ordinata anche qui sul canale purtroppo non penso che sia una storia che finirà qui ma anzi ho come l'impressione che questo sia soltanto l'inizio ma ritengo comunque che sia un primo capitolo che meritava di essere raccontato come dicevo nel video il prossimo mese Ezra Miller sarà chiamato in tribunale per appunto questo ordine restrittivo che è stato emanato dai genitori di Toccata ma non ho idea se poi questa cosa succederà o meno perché Ezra era stato già chiamato in tribunale una volta per quello che era successo con la coppia in albergo quando li aveva minacciati però appunto questa cosa poi è stata scomparsa perché la coppia in questione ha lasciato perdere tutte le accuse probabilmente dietro a un pagamento tuttavia questo caso mi sembra molto più grave non penso che i genitori di Toccata che comunque mi sembrano essendo degli attivisti anche delle persone molto legate ai propri valori al proprio senso di giustizia ecco non penso che loro lascerebbero perdere questa questione dopo tutto questo che è successo negli anni per un semplice denaro quindi molto probabilmente ritorneremo a parlarne in futuro probabilmente già al prossimo mese se questo processo si terrà o meno spero che questo video vi sia piaciuto nonostante i temi trattati nonostante i temi anche abbastanza pesanti per me è stato estremamente interessante e affascinante raccogliere tutte queste informazioni cercare di unire i pezzi fare un po' diciamo così il piccolo detective ovviamente io vi rinnovo l'invito a seguirmi anche sui social perché di questo caso ne ho parlato su Instagram negli ultimi tre mesi praticamente ogni volta che c'era un aggiornamento perché era una cosa che mi affascinava molto e anche su Twitch dove nelle live tra una cosa e l'altra escono fuori queste notizie ci fermiamo anche per ore a discutere e analizzare le varie cose ma direi che per ora da me è tutto io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti